Ritorna nel Cilento l'artista Luciano Cirillo con la sua antologia a scopo didattico di opere d'arte dedicate a un tormentato in cui eto novecento di storia e cultura. Il prossimo 10 luglio infatti l'artista sarà ospite della Proloco di San Martino Cilento per una mostra dove esporrà i suoi ultimi lavori caratterizzati da opere che confluiscono nei grandi temi della cultura filosofica, scientifica e tutte le relative ricerche linguistiche. L'evento è previsto per le ore 20 e 30 presso la sede della Proloco di San Martino Cilento. Il 10 luglio inaugura una mostra a scopo culturale didattico e allegorico di contenuti altamente morali dove questa mini antologica rappresenta un po' dagli anni 60 al 2000 alcune delle principali opere per poi diciamo come aspetto culturale. Le opere non sono in vendita nettamente a scopo culturale e saranno presenti numerose persone e personalità per rappresentare la cultura nel Cilento. Io sono nato ad Agropoli in provincia di Salerno in piazza Corasse oggi Tommaso Mainenti. Qual è il messaggio che le vuole dare attraverso le sue opere d'arte che sottolineiamo non sono in vendita ma sono a scopo culturale. Culturale, didattico, quasi a dire di insegnamento, bisogna vedere le opere allegoriche, altamente morali, civili, religiose, per una pace possibile perché si vede il crollo in questi anni e diciamo la cultura è quasi avuto un infarto e quindi è un periodo di convalescenza, è una crescita, una transizione che spero che in futuro, un futuro possibile, ricuperare i valori perduti durante questi anni per poi investirli per un futuro possibile. Ecco lei mi diceva poc'anzi che ci sono dei riferimenti se eventualmente qualcuno volesse contattarla. Lei è figlio del Cilento ma non abita qui in Cilento. Io il 22 settembre del 63 emigraio in Lombardia, Milano, Cologno Monzese, adesso però sono a Rescaldini in via del Caravaggio numero 6 e sto sistemando uno studio di scultura, di pittura, scultura in ferro, scultura in marmo, pietra di legno soprattutto e pittura. Chi volesse contattarla è il suo riferimento telefonico? Il numero telefonico è 333-9662-535. Benissimo, noi ringraziamo l'artista Luciano Cirillo per la sua presenza in Cilento e per regalarci ancora quest'anno tanta cultura e tanta storia. Non perdete l'appuntamento a San Martino presso la sede della Proloco, a che ora dottor Cirillo? Alle 8 e 30. Alle 20 e 30 quindi tutti a visitare la mostra dell'artista Luciano Cirillo.